Un battito nuovo, l'arrivo della prima figlia, unisce Diletta, Leotta e Karius. Benvenuti su Gossip & Notizie, l'unico canale a offrirvi sempre il meglio. Notizie vere e affidabili. Iscrivetevi per avere sempre notizie aggiornate! In un momento che sarà inciso nel cuore di Diletta Leotta per sempre, la gioia risplende nella sua dimora. Il volto solare di Dazan, oltrepassando i confini del calcio, ha visto la nascita della sua dolce bambina proprio nel giorno del suo compleanno, regalandole così un dono indimenticabile. Un nome fresco come l'aria, scelto con un istante di intuizione, si è diffuso come una melodia dolce. Aria Attraverso i nove mesi del misterioso cammino, Diletta, Leotta, l'anima sportiva che incanta il piccolo schermo, ha abbracciato il miracolo della maternità. Una piccola luce si è accesa, portando con sé l'amore coltivato con Karius. L'annuncio è giunto sereno, immortalato da foto prese direttamente dalla camera della clinica. Il luogo dove questo magico incontro ha avuto luogo, nel cuore di Milano. La dolce luna di compleanno si è illuminata con una luce speciale. Oggi rinasciamo insieme, sussurra Diletta, abbracciando la coincidenza unica tra il giorno in cui è nata e quello in cui è nata sua figlia. Un benvenuto affettuoso è riservato ad aria. Sei il regalo più splendido che potessimo desiderare, condiviso con affetto su Instagram. I social si riempiono di congratulazioni, una sinfonia di calore in risposta a questa magica congiunzione. Personalità illustri, da Elodie a Chiara Ferragni, rendono omaggio a questo momento speciale, creando un mosaico di affetto. Tra le immagini condivise, quella toccante e naturale, con la piccola aria avvolta tra le braccia, mentre Carius, compagno e coprotagonista di questa dolce storia, sorregge teneramente una torta di compleanno. E così, un'incredibile gioia si diffonde nella famiglia, raddoppiando la felicità. Fate gli auguri a questa splendida coppia! Lasciate un commento sotto il video, saremo lieti di leggerlo! Arrivederci!